Buongiorno a tutti e a fermarsi a Puglia. Oggi siamo al termario, al termario è tutto relax. Sì, tutto relax, poi quando si puoi svolgere, non lo so, ti vedete? Vedete, qualcosa ci sentiamo. Ci sentiremo qualcosa. Il termario lo vede lì sicuramente. Sì, ma certo c'è cos'altro, si sente? L'acqua. Beh, meglio l'acqua che la musica, perché se c'è la musica non si può sentire la voce. Infatti se parte la musica è per loro. No, c'è niente di massaggi. Eh no, non c'è. Di dietro fanno i massaggi, sopra c'è la piscina a ritromassaggio e qui qua c'è sauna, bagno al gruppo e sauna. E qui è l'uscita. E qui c'è un po' così. Ma c'è... C'è... Sulario, insomma. Ah, sì. Eh sì. Sulario, ma... Che stanno c'è dentro quello? Non lo so, perché la domenica pure... No, c'è il bambino che tutto si è trattata. Una sauna, una brezza. Prego, non c'è un mare. Allora, vogliamo fare un video spesa? No, no, adesso facciamo. Dai, bellissimo. E quindi, quando mi mando un gioco... Eh? Il gioco dei Mimini. Lo facciamo in diretta? In diretta? Oggi a pomeriggio? Eh, quasi quasi oggi a pomeriggio facciamo in diretta il gioco dei Mimini. Quindi preparatevi perché oggi c'è la diretta, verso che ora. Voi quando state a casa? E nel mezzo? Alle quattro? Non alle quattro? Adesso sapete nei commenti subito, perché poi adesso questo lo carico e poi se ci direi verso che ora, più o meno, facciamo questa bella diretta, eh? Ci divertiamo un pochettino. No, alle quattro. No, alle sei. O? Dieci voi. Una sorpresa, una sorpresa. Fate voi. Surprise! Non ho un capello, ma... Madonna quanto sono brutta! Eh, ha fatto dodici piloni di solo. Lei ha già fatto sopra la camminata. Oggi ho ripreso la palestra, perché praticamente da ottobre sono venuta tre volte. Oggi che è, non lo so, 21 maggio, rinizio la palestra. A dopo. Ciao.